La revisione è sempre più importante per il mondo cooperativo a tal punto che è anche oggetto di una specifica tesi. Sì, sì, è sicuramente importantissimo, fa parte di quel processo di autocontrollo e autogoverno che caratterizza il mondo cooperativo. Ho avuto la fortuna di essere abilitato poco fa come revisore e ho dedicato la mia tesi di laurea magistrale in amministrazione, finanza e controllo alla facoltà di economia proprio sull'argomento dell'attività di vigilanza. Noi giornalisti siamo sempre a caccia di notizie, in questa tesi possiamo dare una notizia specifica, una novità? Innanzitutto la novità grossa di questa tesi è che non era mai stata fatta una tesi presso la facoltà di economia sull'attività di vigilanza. All'interno della tesi forse la novità più rilevante è stata analizzare un caso poi pratico, quindi un verbale veramente redatto da già un revisore abilitato che ha avuto la fortuna di poter trattare e analizzare durante il corso, l'ho ripresentato durante la tesi. Un tema che qui sul tessuto genovese e ligure quanto è sentito, quanto bisogna farlo ancora comprendere e capire al meglio? Ma è già sentito tanto, ma sta crescendo, continuerà a crescere e quindi penso sia importante anche documentare la gente e far capire l'importanza di questo fenomeno perché possa crescere ancora di più. Un consiglio ad uno studente che deve ancora laurearsi su come poter affrontare questi temi? Sicuramente tanta passione e voglia di fare perché è un tema tutt'altro che facile, quindi è veramente importante già studiare, documentarsi e seguire poi la propria passione. Quindi se uno ha passione in questo riuscirà sicuramente a farlo con lo studio e l'applicazione. Possiamo dire che il mondo della cooperazione è un mondo affascinante per un giovane? Un mondo dove si può crescere tanto, quindi per me era sinonimo di affascinante, crescita uguale affascinante, quindi sicuramente sì, è molto affascinante per un giovane perché è molto caratteristico e ti fa capire tante dinamiche che se non ci vivi dentro non puoi capire.